Questo che ho nei capelli Non sono i miei veri capelli E' un alieno Si E' un alieno Comunque saluti ragazzi e ragazze Benvenuti in questo mio nuovo video Io sono sempre Davis Il youtuber Spero che vi piaccia It's been a long day Without you my friend In questo video Vi voglio portare In realtà Contro Aspettative o aspettative Contro realtà Aspetta voi decidere Comunque io spero che vi piaccia E via Come crede di fare Pitbox Ma è realmente Come crede di disegnare Disegniamo un Teletubbies Ok Faccio così Ecco qua Fini E vabbè Io ci ho provato Ma Più o meno Com'è realmente Oh no basta Sono superato Ma è scherzo Che bellissimo Mamma mia Ma se io sono un piccolinale Sono Mamma mia Chi sono Sono Gesù Mi credi di sapere Usare In un ciocco Bravo Vedi si riesce a prendere Questa Però adesso Come è realmente Come vedi Tu fratello Ma è realmente Ok ragazzi Penso che il video si concluda qui E ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi E E E E E